L'America è il paese più bello del mondo, grande assai, e troverai tanti amici e vedrai che ti piacerà. Tutto quello che vedi qua dentro è tutto tuo. Io non campero in eterno. Tutte queste cose, questa officina, chi la lascia? A te, no? Facciamo un brindis alla moto di Alex, va. Vedi io non ho pazienza e i miei compagni hanno ancora meno pazienza di me. Vigliacco, vedrai come sarà facile spaccarti la faccia. Non porti i soldi e cosa vorresti? Tante cose vorrei. Il ritorno di uno dei più grandi bodybuilder della storia. Amico fraterno di Arnold Schwarzenegger. Due volte Mr. Olimpia, Franco Columbo, e per la prima volta al suo fianco sul grande schermo, Ivano De Cristofaro. Ma perché l'hai fatto? Io ti ho sempre trattato male. Sei in debito con me. James è stato veramente cattivo con te, non scordartelo. Tutti hanno bisogno di una seconda opportunità. La sfida l'accetto, però le regole le ho detto io. E si fa ora. Ho un lavoro per te. Michela mi ha detto che lavoravi con le moto. Allora le mani mi stai muove. Beh, Frank dice che sarò un buon falegnano e dire che io volevo diventare un grande pugile. Nel film che scriverà una pagina di storia del cinema italo-americano. Mi hanno bruciato la bottega. E chi è stato? Mi riprenderò ciò che mi appartiene. Quello che a un tempo è stato mio. Alla mia destra, Alfredo Coccia. Io ho fatto il pugilato. Tu sei forte, ma non hai l'esperienza. Un mio vecchio amico ha seguito la box in TV e lui ha un glisso gym. Era il mio allenatore. Adesso lo vuole vendere. E io ho pensato a te. Vogliamo comprare la palestra. E il tuo gym è perfetto. E tu hai tutto lì. Il peso, l'interno, l'interno è il migliore gym. Franco Columbu e Ivano De Cristofaro nel film dell'anno. Dreamland, la terra dei sogni. Al cinema. A presto.